Eccomi ancora con voi ragazzi, sempre PokéShiny che vi parla e questo è una busta della mia compare L che sarebbe alias Love Pikachu 2000 ma non so sinceramente cosa mi abbia inviato perché io non mi aspettavo niente quindi è una sorpresa perché non abbiamo fatto nessun TCBM, nulla, non mi ha detto niente oggi ho visto arrivare questa lettera e presuppongo sia una sorpresa perché ripeto, non avevo fatto nessun tipo di scambio vediamo cosa mi manda c'è rimasto altro nella busta? No vediamo perché c'è una marea di roba allora qui invia un bellissimo disegno di Pikachu bellissimo ovviamente dalle mie care poste italiane visto che il precedente video era di una raccomandata che era donata indietro bellissimo Pikachu questo lo mettiamo qui a farci compagnia se riesco a farlo stare in piedi ok e poi ci invia un biglietto vediamo cosa ci scrive we compare come te la passi? vedo che il tuo canale sta andando bene anzi benissimo se non l'avessi capito questo è un FCBM si adesso l'ho capito capitano ovvio xdxdcd ti ho voluto fare questo FCBM perché sei il mio utente preferito grazie mille love anzi compare l io non me lo aspettavo proprio di avere una sorpresa mi dispiace che non ho messo molte cose ma ho messo il massimo che potevo Non fa niente assolutamente Anzi apprezzo molto questo FCBM Perché ripeto è una sorpresa Quindi qualsiasi cosa ci sia va benissimo E sai sono molto felice Che tu sei il mio compare Idem Spero di fare un altro TCBM FCBM con te E non so altro che dirti Ah si buona fortuna Per il canale compare Crepi Crepi anzi Un grandissimo saluto Dalla tua Commarelle Ah tu sei la commarelle Allora scusate è la mia commarelle Io la chiamavo compare ma è vero Ciao facetina Quindi la mia commarelle Ufficiale è Love Pikachu 2000 Ma sono proprio contenta di questa sorpresa Perché non me l'aspettavo Poi non mi ha detto nulla Neanche in privato Quindi proprio zero Non ne sapevo niente Allora ci manda Un bel po' di Carte Dei calciatori Panini Fra un po' Mi supera con lo scotch Ragazzi Lo avviso Perché sta diventando Peggio di me Con lo scotch Riusciranno mai I nostri eroi Aspettate che io ho le Mega E Fantastiche forbici Ecco qua Vi faccio vedere le carte Senza ovviamente Leggere i nomi Che altrimenti ci impiegherei Un bel po' Che ovviamente Nel giro Vi faccio venire Un po' Di volta a stomaco Ancora Altro che Gardaland Basta guardare Un video di PokéShiny Faccio venire Il volto a stomaco Meglio dei parchi Divertimento Ah Anche lo scudetto Del Siena Pescara Pescara E vale Se non sbaglio Magari sto dicendo Una sciocchezza Ma Vediamo un po' Giusto per essere Sicuri Cioè Con Mare Love Non mi hai messo Neanche Vergognati Neanche una carta Del Milan Perché sono milanista Eh vabbè Ti perdono ugualmente Qui Ci inserisce Delle carte Di Geronimo Stilton Lo scotch Cioè Secondo me Me la fanno apposta Quando mettono Me la fanno pagare In questo modo Sicuro me la fanno pagare Divendicate in questo modo Perché se no Non si spiega Io prendo Due tiche forbici Ecco qua Perfetto Vi faccio vedere Anche queste Ok Poi ci invia Altre carte Pokémon Slothred Poi ancora Ti ringrazio per non avermi messo Nessun Magic Up Grazie mille E con Marelle E poi Che ancora non ho visto Ci manda una Carta in sleeve Spero sia qualcosa di buono E non un Magikarp Perché La carta è Meno male Allora Roserade Olografico E Una carta Di Sidot Trasformata Ghianda Con occhi Sparabucce Autoesplosione Pokémon Simulatore XD Bello Queste carte Trasformate Io le conservo Sempre perché Mi piacciono troppo Perché comunque Insomma È un ricordo Tra virgolette Che mi rimane Dell'utente Che mi manda O il TCBM O il FCBM Perfetto Coman love Io ti ringrazio tantissimo È davvero Un FCBM Inaspettato Perché non mi avevi detto niente Quindi ti ringrazio davvero tanto E Ragazzi Ci Come sempre E ci sentiamo presto Per ulteriori aperture Ciao ciao